eccoci benvenuti, come promesso proviamo a vedere come impostare un Simona Stick l'ultima versione scaricata da internet quindi basta andare per scaricare questo zip entriamo in Chrome cerchiamo Simona Stick e abbiamo il sito principale da questo sito installiamo la versione più semplice che è l'uno per uno, single sim e che ci scarica un, e no, questo no scusate bisogna scaricare la versione zip one zip, questo qua quindi facendo one zip si scarica un SOAS 076 o la versione che avete voi, .zip perché .zip? perché il .zip è, tra virgolette, più facile da installare cioè da un certo punto di vista è un pochino più difficile ma in realtà è più flessibile adesso vediamo meglio cosa intendiamo quindi abbiamo scaricato questo oggetto suppongo che voi abbiate anche scaricato imprudence132 che abbiamo qua, vedete vediamo adesso come installare, come configurare la nostra Simona Stick sul nostro computer quindi la prima cosa da farsi è di spacchettare il SOAS 076.zip scaricato a poc'anzi quindi lo clicchiamo notate che io sono su Windows 8 queste operazioni sono molto simili anche su Windows 7 addirittura su Windows XP quindi io prendo questo lo... anzi no dunque... andiamo un po' Windows 8 questo quindi tasto destro lo trascino sul mio desktop o dovunque voi vogliate installarlo quindi verrà spacchettato ora qui in questo caso questo Windows 8 è all'interno di una LAN nel mio caso specifico ho fatto una macchina virtuale con Windows 8 analogamente potrebbe essere una macchina virtuale o comunque una macchina rara sulla vostra rete ok le reti le trovate con il loro IP quindi intanto che lui scarica andiamo sotto CMD qua e vediamo di capire quali sono gli indirizzi della rete quindi se facciamo IP config vedete che mi arrivano un bel po' di cose e questo è l'indirizzo della rete 192.168.133.131 da voi potrebbe essere qualcosa di simile se siete su una rete locale oppure anche 10. qualcosa oppure se non siete su una rete locale potrebbe comparire un indirizzo qualunque che è quello però ipoteticamente se fosse una rete veramente locale avrete molto probabilmente un indirizzo di questo tipo 192 eccetera ora intanto che stiamo parlando l'unpacker sono 180 mega vi ho risparmiato prima il download da internet che ci poteva in alcune situazioni impiegarci tanto questo è semplicemente lo spacchettamento che vedete che è comunque un pochino impegnativo quando è finito ha generato un SOAS 076 una cartella sul vostro desktop ora clicchiamo questo la prima operazione da fare è quella di lanciare il Mowes quindi lanciamo il Mowes, ci chiede conferma e parte questo Mowes il Mowes è un sistema che installa automaticamente quindi qui facciamo hide ecco si installa automaticamente Apache, MySQL che servono poi per per il mio mondo virtuale OpenSIM quindi la prima operazione è aver lanciato il Mowes adesso qui in realtà non mi ha chiesto autorizzazioni ma se voi lo lanciate per la prima volta probabilmente vi chiede un'autorizzazione su Apache e su MySQL quindi dovete dirgli ok, perché lo cercano di aprire delle porte e il vostro firewall probabilmente non è felicissimo vi chiede conferma la seconda cosa da fare allora questo programma qua lo dico perché ho fatto già altri corsi e molti erano in dubbio sul significato questo qui diciamo è un sistema che deve essere sempre su quindi non potete fare end se fate end scompare un pezzo di cose che servono al vostro OpenSIM quindi dovete lasciarlo lì ok lo lasciate lì tranquillo che in esecuzione il Mowes è un sistema che permette di avere un database è un server HTTP e invece poi dovete andare dove? sotto diva bin e a questo punto qua sotto lanciate il vostro OpenSIM quindi semplicemente andate dopo OpenSIM.exe fate doppio clic ora attenzione io adesso qui l'ho già lanciato altre volte e quindi adesso mi partirà subito o quasi da voi probabilmente potrebbe dirvi che mi manca il .NET Framework 3.5 e cercare di installarlo cosa che può impiegarci anche tanto nel mio caso l'ho già installato quindi non me lo dovrebbe chiedere quindi se faccio doppio clic e poi faccio il run di OpenSIM lui adesso dovrebbe partire completamente se per caso vi desse degli errori o vi chiedesse a questo punto delle cose vuol dire che non avete fatto bene la parte prima oppure non avete dato quindi non avete per esempio su questo se manca il MOWE se lui non parte oppure se non gli avete dato le attualizzazioni o se non avete scaricato il .NET che è un pezzettino di Windows che gli serve come vedete lui è partito per vedere che sia effettivamente partito andiamo sul sulla nostra ok sul desktop e andiamo e lanciamo Imprudence quindi Imprudence è il meccanismo che vi consente di verificare se tutto ciò che abbiamo fatto è a posto quindi se tutto va bene fra un attimo eccolo arriva e possiamo collegarci come Simona Stick 123 ma non su Edmondo dobbiamo andare su Grid Manager e collegarci in Local ma non sul 9100 ma bensì sul 9100 quindi HTTP 127.001 che è il computer nostro e facciamo 9100 facciamo Get Grid Info e come vedete tira su delle proprietà facciamo Apply ok quindi andiamo su Local Local questo Simona Stick 123 e Loggandoci abbiamo ok abbiamo vedete il nostro mondo tutto piatto tutto vuoto dove dentro c'è mi sembra c'è solo un oggettino che adesso ho difficoltà sono in una macchina virtuale quindi comunque c'è questo oggettino qua che è l'unica cosa che c'è Edit ed è un Bucket of Gold quindi è un come si dice un contenitore un secchio pieno d'oro e dentro non c'è niente però serve soltanto per dire che stiamo funzionando quindi se noi andiamo qui e facciamo Build e ci facciamo il nostro cubo ci possiamo mettere uno script dentro e questo script vedete che funziona tant'è che possiamo anche cambiare lo state entry mettergli un'altra cosa fare il save e vedete che ha scritto esattamente il nostro script quindi a questo punto abbiamo terminato diciamo la parte 1 cioè quella di avere un sistema open sim sul vostro computer ok la parte 2 diciamo che se volete inserire nel vostro computer delle cose dovete andare qua dove c'è la console della vostra macchina e eventualmente caricarci degli OR quindi potete fare load OR e gli mettete l'indirizzo di un vostro OR per esempio ctmp my OR punto my OR punto OR e se c'è lui ve lo carica ok così come potete fare anche qua load IR ma adesso la cosa più importante è quella di vedere un po' come configurarci come usare questa installazione in una diciamo scuola dove c'è una rete locale quindi questo è il computer dove l'ho installato ma vogliamo renderlo accessibile anche da altri computer sulla stessa rete e anche la cosa interessante è di poterci costruire altri account quindi ad esempio cominciamo col primo discorso costruiamo altri account altri account possono essere costruiti anche dalla console facendo il comando create user qua quindi se voi fate create user potete creare un utente ad esempio se avete una persona un vostro allievo che si chiama Franco Franchi tanto per prendete fate Franco Franchi ok mettete la password con cui questa persona può collegarsi gli mettete che è Franco email eventualmente eccetera ok e avete creato questo utente create un altro utente create 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 user ciccio facciamo il maiuscolo ciccio ingressie password gli ho metto ma stiamo sempre pippo ok allora a questo punto vuol dire che se voi potreste in teoria collegarsi cioè qua a questa macchina con quell'utente quindi usciamo un secondo e verifichiamo che possiamo entrare con il nome del vostro Franco Franchi ecco che ci rientriamo quindi Franco se mi ricordiamo ho messo pippo no allora ripriamo con l'altro che è sicuramente ciccio ingressie pippo e vedete che entra tra l'altro nella console allora qui la prima volta che entra dà questo errore nella console che è questa vedete che vi dice che è entrato anche questo insieme a questo non dovete cancellarlo perché serve per poter funzionare quindi ciccio ingressia che è questo che è entrato a questo punto può creare le sue cose quindi crea la sua primitiva il contenuto ci mette i suoi script e questo è un oggetto creato da ciccio ingressia ok e quindi qua potreste anche nella vostra classe se avete bisogno fare anche dei gruppi quindi in realtà è simona stick che ha le proprietà ma comunque queste sono caratteristiche che vediamo magari eventualmente in un altro video qui adesso vediamo soltanto l'implementazione più di base quindi abbiamo inserito queste cose però non è questa macchina non è accessibile dall'esterno quindi supponendo che uno si colleghi da fuori a questo indirizzo non riuscirà a farlo e quindi bisogna predisporre la vostra macchina in modo tale che sia collegabile in una LAN e questo è l'oggetto fondamentale di questo video perché fino a tutto quello che vi ho fatto vedere fino adesso fondamentalmente è già disponibile su dei video che ho già pubblicato ma da adesso in poi vediamo un po' delle cose relativamente nuove ok quindi allora ricordatevi questo indirizzo ipconfig che abbiamo fatto facendo ipconfig qui per chi non sapesse come arrivare a questa finestra lo ripeto andate qua fate cmd e poi cmd e vi apre questa finestra che io chiamo console o terminale ok poi da questa finestra premete ipconfig e la prima ethernet adapter ethernet tipicamente sarà il vostro indirizzo buono potrebbero esserci degli altri e lì sarà anche il vostro sistemista che vi darà una mano a capire qual è il vostro indirizzo reale sulla rete ok allora adesso usciamo spegniamo un attimo la vostra sim quindi facciamo tutto il giro di spegnimento quindi andiamo qua qui facciamo shoot down quindi la sim va giù ok andando giù la sim vanno giù anche i clienti quindi i viewer quindi usciamo e questo che è il sistema generale lo lasciamo ancora su che è Apache MSQL e andiamo invece dove abbiamo installato il nostro amico per vedere come configurarlo per poter essere acceduto dalla LAN quindi andiamo in SOAS 076 questo andiamo sotto Diva si chiama Diva perché la distribution di OpenSIM fatta in questo modo è fatta da una ricercatoria universitaria che si chiama DivaCanto e questo ecco da qui deriva il Diva andiamo in Diva andiamo in Bin quindi Diva R qualcosa Bin e poi andiamo a questo punto nel diciamo due punti dove dobbiamo toccare per poter essere accedibili da fuori nelle Regions quindi andiamo nelle Regions regionconfig.ini allora regionconfig.ini andiamo in Edit e abbiamo le nostre regioni in questo caso abbiamo una sola regione che è si chiama Simmonastic1 o se qui volete avere una regione con un nome vostro per esempio supponiamo che voi vi chiediate scuola Filippo Turati per esempio e qui potete chiamarla SimFilippo Turati e poi l'Internal Address eccetera ma la cosa più importante è questo indirizzo External Host Name allora External Host Name qua gli dovete mettere questo 192 quindi andate qua selezionate Invio poi andate qua CTRL V togliete eventuali spazi selezioniamo solo questo copy ok salvate questo e voi direte è sufficiente questo? no in realtà c'è ancora un altro pezzo da fare lo vediamo quindi qui controlliamo ok 133 131 lo stendio potrebbe essere diverso andiamo invece in un altro punto importante che è il dunque sempre sotto dove avete messo diva bin qui però andate sotto config include e qui come vedete c'è un myworld.ini cioè il mio mondo.ini andate in edit e qui ci sono diversi punti dove andare a toccare però fondamentalmente il pezzo più importante è il grid info service la grid info service vedete che è pieno i 127.001 e qui dovete metterci invece l'indirizzo l'IP praticamente del del server dove avete installato dovete metterlo in questi quattro posti ok ecco visto che ci siamo qua guardiamo un attimo wifi service vedete che c'è anche questo importante wifi admin con password secret che potete anche eventualmente cambiare quindi ricordatevi wifi con la W maiuscolo di come nome admin questo è importante perché qui ci lavoreremo tra poco allora salviamo questa configurazione usciamo usciamo anche da qua e torniamo a lanciare il nostro open sim .exe che stava sotto div bin open sim .exe eccolo qua quindi lanciando in questo modo a questo punto il tutto dovrebbe essere accedibile da verifichiamo che non ci siano degli errori ok eccolo quindi a questo punto fermo un attimo e poi ripartirò la registrazione con accedendoci da un computer esterno sulla stessa rete ricordiamo che qui siamo sul 192 168 133 131 e noi andremo su un altro computer quindi adesso vedremo come funziona ok eccoci su un altro computer qui siamo su windows 7 un computer collegato in rete se vedete ipconfig questo computer ha una serie di altri indirizzi ma in particolare ad esempio ne ha 1 192 168 133 1 che come vedete è diverso da quello che abbiamo visto prima perché prima abbiamo visto 192 168 133 131 ok quindi come si fa adesso da questo computer che è collegato nella stessa rete a collegarsi di là vediamo se funziona quindi andiamo qui configuriamo abbiamo un imprudence andiamo sul grid manager e poi abbiamo simon stick 2 dove abbiamo detto 192 168 169 161 9100 ma facciamo magari lo cancelliamo e lo ricreiamo così lo vedete da zero quindi aggiungiamo la nuova grid grid name lo chiamiamo grid della scuola scuola grid login mettiamo http due punti slash slash 192 168 133 131 2.9100 che era l'indirizzo del nostro server dove abbiamo montato tale cosa facciamo get grid info e qui è importantissimo perché se abbiamo fatto tutto giusto ci compila questo sempre con l'indirizzo 131 eccetera se ci veniva 127.001 vuol dire che non avevamo modificato il myworld.ini che vi ho fatto vedere prima quindi qui facciamo apply ha detto che non gli è piaciuto quindi lo rifacciamo ah perché c'era e vabbè lo rifacciamo add new grid lo facciamo mia grid http ctrl v 9100 get grid info purtroppo cambia anche il nome della grid quindi dobbiamo ricoprirlo quindi scuola grid ok quindi abbiamo scuola grid eccola qua e qui ci mettiamo ciccio ingrassia pippo e vediamo se siamo in grado di collegarci facciamo login allora scriviamolo bene pippo login ecco se tutto va bene vedete che abbiamo il collegamento che sta partendo ricordate che adesso stiamo collegandosi da un computer diverso da quello di prima cioè un computer client sulla stessa rete ed eccoci collegati quindi noi adesso siamo su un computer diverso e stiamo collegandosi di qua ora se volete facciamo una prova cioè andiamo adesso sulla mia macchina virtuale qua e da qua vedete che si è collegato a ciccio ingrassia ma entriamo come invece anche qui entriamo con imprudence quindi è come se fossero due computer e sul computer centrale ma potrebbe benissimo essere un computer un altro computer ci colleghiamo invece come simona stick quindi simona stick un due tre quindi entriamo vedete che qua è leggermente più veloce ok e vedete che io sono simona stick e vedo che ho il mio ciccio ingrassia imprudence che è collegato quindi qua volendo posso dirgli ciao ciccio perfetto e torniamo invece sul nostro vedete questo qui sono io e gli dico ciao ciccio e ciao simona qui vedete che non vedo simona ah già non vedo simona possono esserci molti motivi comunque iniziamo con fare le cose semplici quindi così vedete che stiamo funzionando quindi abbiamo due avatar collegati ok ora noi siamo ciccio ingrassia quindi siamo sul computer separato sempre sul nostro computer separato volendo possiamo entrare e ricordate che avevo detto che c'era una console di amministrazione quindi ci colleghiamo a dove http due punti slash slash control v 9100 wifi ok allora collegandosi a questo indirizzo magari wifi forse è tutto minuscolo ecco vedete che mi collego su un sito una specie di sito web che mi dice che a questo punto ci sono 4 utenti che sono 4 utenti collegati e io posso qua entrare con l'utente principale o con simona stick oppure con wifi admin che era secret vediamo un po' ok quindi wifi admin wifi come nome admin come cognome e poi secret che è il default siamo entrati e anche qui possiamo maneggiare gli account quindi qui possiamo cercare anche franco franchi eccolo qua e possiamo per dire modificarlo e mettergli anche fare il reset della password cambiargli le varie cose e quindi mettere ad esempio se abbiamo dimenticato una password possiamo mettergli la password pippo reset ok poi possiamo anche cambiare i gruppi nel caso quindi se noi vogliamo possiamo anche fare dei gruppi quindi da qui possiamo anche fare ctrl shift f gruppi e possiamo creare dei gruppi quindi il gruppo facciamo gruppo scuola statuto eccetera eccetera e questo gruppo facciamo ok quindi abbiamo creato un gruppo fatto da ciccio in grassia e possiamo invitare in questo gruppo gruppo invite scuola ok quindi abbiamo invitato simona stick quindi se andiamo adesso anche nella macchina virtuale ci hanno invitato in un gruppo e siamo nel gruppo vedete che ciccio in grassia è l'owner of scuola e simona stick è diventato member of scuola e abbiamo anche visto che se noi vediamo adesso i gruppi c'è un gruppo che si chiama scuola con due membri quindi possiamo cambiare il nome e lo statuto non moltissimo ma insomma è già qualcosina e in linea di principio questo è quanto quindi ricordiamo riassumiamo tutto il discorso che abbiamo fatto finora andiamo nella macchina virtuale qua quindi quando scaricate vi ho ricordato che dovete scaricare su una vostra cartella all'interno della cartella c'è un mowes che dovete lanciare come primissima cosa e lasciarlo lì poi dovete andare dentro diva bin e lanciare il opensim.exe che vi apre questa finestra da questa finestra potete fare un sacco di operazioni di console di terminale e tra altre cose potete fare anche shutdown per chiudere la vostra quindi se qui facciamo shutdown va giù quindi chi si è collegato si vedrà sconnegato quindi usciamo da qua quindi quando avete finito basta che facciate lo shutdown di quello e poi facciate ancora l'end del mowes viceversa per ripartire la volta dopo dovete rilanciare il mowes questo ok quindi accertarvi che diventi tutto verde ecco se non dovessero diventare verdi queste cose qua vuol dire che ci sono dei conflitti di porte e in tal caso dovete chiedere a un sistemista qualche aiutino a volte c'è skype ad esempio che crea dei problemi facendo così comunque lui è su ma per mandare su la vostra sim dovete ancora andare dentro diva bin e lanciare l'open sim punto ex che è proprio veramente il programmino che permette di funzionare che gestisce proprio open sim quello di prima era solo quindi lui va su va su va su soltanto a questo punto potete collegarvi quindi se andiamo sulla qua vedete che siamo su un altro computer collegato e ci dobbiamo ricollegare in imprudence e proviamo a collegarci con imprudence con franco franchi in cui gli avevamo cambiato la password da administrator vediamo se è funzionato ok invece che ciccio ingressiva faccio franco franchi pippo scuola grid vediamo se è funzionato il cambio di password perfetto sembra di sì ah qui dovete sempre la prima volta viene questo errore per ovviare questo errore dovete dire ovviamente di settarvi il crea imposta la tua casa qui ok quindi non succede perfetto ctrl shift F gruppi cerca qui posso cercare il gruppo che si chiamava scuola cercato clicco qui c'è poco spazio spazio ok membri ok e non potete scriverli voi perché non era libero bisogna poi entrare e fare tutto il discorso sui gruppi però riassumiamo invece di nuovo le modifiche che abbiamo fatto per consentire questo accesso qui andiamo nella macchina virtuale per consentire questo accesso abbiamo fatto due modifiche fondamentali una siamo andati sotto regions region config e qui abbiamo preso il nome che c'era prima openonsim e l'abbiamo chiamato Filippo Turati adesso controlleremo ancora un attimo che sia quello lì e soprattutto gli abbiamo messo l'external hostname uguale a quello che ci compariva qua l'ipconfig ok e poi però abbiamo fatto un'altra operazione altrettanto fondamentale è di tornare su andare sotto config include andare sotto myworlds.ini editiamo e qui siamo andati dove parlava di grid info services e abbiamo sostituito 127.001 con 192.168 questo è il minimo diciamo che serve per poter lavorarci in LAN io spero che con questa questa registrazione sia stato abbastanza chiaro se volete provare con le vostre macchine anche nelle vostre scuole nella vostra LAN ammesso che non ci sia un problema di firewall o di altro in cui avrete forse qualche bisogno di qualche consulto però il vantaggio di questa soluzione è che potete accendere le vostre open sim e fare entrare i vostri allievi e registrare tutto perché tutto viene registrato praticamente qui nella macchina virtuale e tutto viene registrato in un database che sta sotto sotto questo folder vedete che qui c'è un mysql qui data quindi tutti i dati registrati vengono registrati qua quindi in teoria tutto ciò che voi fate può essere spostato anche su un altro computer basta salvarsi i passaggi spassarsi questa questa cartella che abbiamo messo sul desktop ovviamente se lo mettete e lo spostate su un altro computer che sta magari su un IP diverso dovrete cambiare l'IP dentro quei due file che abbiamo visto prima per oggi credo che sia tutto spero che sia tutto chiaro come in realtà spesso non è se ci sono i problemi contattatemi e vediamo di affrontare i vari problemi per questo è tutto buonasera e vediamo di affrontare